So che oggi è un giorno molto importante per questa trasmissione e soprattutto per Claudio, so che oggi lui farà la sua scelta e quindi ti auguro di scegliere una persona che potrebbe essere l'amore della tua vita e se così sarà non ti dimenticare di invitarmi alla tua unione civile e quindi spero che il vostro amore abbia quei frutti meravigliosi di felicità che in fondo questa legge ha cominciato a portare in tante coppie e in tante famiglie. Le persone omosessuali, le persone omosessuali sono tutte uguali, sono tutte persone, hanno tutte diritto alla felicità e lo Stato deve riconoscere a tutti questi diritti di inclusione all'interno della cittadinanza attiva. Io penso che Maria De Filippi abbia avuto un grandissimo coraggio, quindi Maria il mio è anche un grazie perché il lavoro del legislatore, il lavoro umile che io ho fatto dentro questo Parlamento non potrebbe avere un risultato migliore se non quello di arrivare al grande pubblico attraverso un programma come il tuo, dimostrare che un amore omosessuale è esattamente uguale ad un amore eterosessuale. Quindi anche un grazie ai ragazzi che hanno partecipato, che hanno dato un senso di normalità, che è la parola più importante nell'occuparsi di inclusione e di integrazione, dimostrando che le affettività sono tutte uguali, hanno parlato dei loro problemi, delle loro famiglie, di quanto è stato difficile fare coming out e di come comunque si può essere accettati perché appunto l'amore è tutto uguale. Credo che la vera cultura del paese cambi attraverso eventi e programmi come questi. Il fatto che Claudio abbia in qualche modo con coraggio rappresentato un mondo sommerso di amori meravigliosi e uguali ai nostri, secondo me gli ha fatto guadagnare anche dei punti in termini di stima e di consenso. Io lo stimo molto. Sicuramente un grazie di cuore davvero Maria e soprattutto a Claudio un augurio di amore e di felicità.